Si chiamava Adriana Vieira, era una bellissima donna di tre toni di età, brasiliana, faceva la modella ed era anche però molto attiva su OnlyFans, la piattaforma dove si mostrano le proprie caratteristiche estetiche, o meglio le proprie foto un po' più audaci. E pensate che è morta, la donna aveva partecipato a una festa in un yacht, quindi in barca, in una nave, organizzata da un meraviglioso rapper, di cui però non è stato fornito il suo nome né il suo cognome. Il corpo però di questa ragazza, che si faceva chiamare sinisocial Lady Rich Forever, è stato trovato per il galleggiante in un porto di Miami, negli Stati Uniti d'America, e diciamo che la morte di questa ragazza è avvolta totalmente nel mistero. Il fratello, di nome Leandro Vieira, ha, diciamo così, confermato la notizia del fatto che purtroppo la donna è morta, ed era originaria di San Paolo del Brasile, era mamma di un bambino di sei anni, e aveva un sacco di follower su Instagram. Insomma, che fine ha fatto? Di cosa è morta? Le piste ancora non sono state intraprese e c'è molto mistero sulla fine che questa donna ha fatto. Adriana, che tu possa riposare in pace. Amen.